Musica La gru si inalza dalla zona di Soste di Ortobagi con un 1.020 di pressione, vento nord-est che è fondamentale. Se noi tracciamo una linea da Ortobagi a Gagliocanto, cioè la tratta che fanno loro, che è circa 1.850 km, il lago Borgarino si trova a circa metà strada. Musica Questi treni qua diventano per le gru fondamentali, perché sono esattamente sotto la rotta migratoria quando la rotta migratoria si sposta verso la pianura. Musica 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 I crimini contro la vita li chiamano errori Eppure il vento soffia ancora Scruzza l'acqua alle navi sulla prora